Ciao amici, benvenuti nella recesoria Atomic Heart, il Doom by Shock, un po' anche di Far Cry, creato da un team russo. Vediamo se vale la pena di giocarlo. Prodotto Focus Entertainment e 4 Divinity, sviluppo Manfish, lingua ovviamente doppiato in tutte le lingue, compreso anche l'italiano, disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS e PC. Ovviamente c'è anche l'elettrocomodità per PlayStation 5, Xbox Series X OS, se caso l'avete preso ovviamente in digitale. Supporti 4K sì, reitresi attivo o no, prezzo di lancio 69,90€ l'edizione normale, 99,90€ la special edition e 109,90€ quella che comprende anche il Season Pass. Genera FPS con alcuni piccoli elementi RPG. Trama, abiettato in una realtà alternativa del 1995, dove l'Unione Sovietica ha inventato internet e ha fatto anche passi da gigante per quanto riguarda la robotica e la tecnologia, il protagonista di questa nuova avventura è un agente speciale del KBB, ovvero P3 mandato dal governo per investigare sulla scompassa delle comunicazioni di una base industriale segreta. Ovviamente il nostro caro agente dovrà capire i motivi perché ormai questa base non risponde più ai richiami. Foo, basta, mi fermo qua perché altrimenti rischio di fare spoiler o rovinare i colpi di sorpresa. Ecco, parliamo invece dall'aspetto tecnico. In tema di sviluppo, Manfish, per la realizzazione di questo gioco, ha utilizzato l'Arian Engine 5 e ha creato un mondo ben dettagliato e curato che offre un buon leve design con abitazioni varie, dettagliate, esplorabili e il tutto si muove in modo fluido, cioè senza cali di frame rate. Certo, non è proprio del tutto perfetto, abbiamo notato con i piccoli bug grafici, ma proprio piccoli, nulla che va a rovinare l'esperienza intera del gioco. Ovviamente questi piccoli bug sono stati già corretti una buona parte con delle patch correttive uscite proprio adesso. Il design dei personaggi e dei nemici, anche questo è curato, sono vari ben titagliati, ben caratterizzati e con animazioni fluide. Anche il comparto sonoro è ben curato, con musiche a tema ben implementate e ovviamente come vi ho detto prima è doppiato in tutte le lingue. Adesso direi da passare un po' al gameplay per dimmi un po' com'è il combat system. Ci vediamo tra poco. Eccoci qua con la parte del gameplay, l'elemento esenziale di ogni videogioco. Come potete notare il gioco prende ispirazione da alcuni titoli più famosi, Bioshock, Doom e Far Cry e lo fa in modo saggio, mischiando perfettamente le fasi sparatorie, combattività corpo a corpo, le fasi esplorative e l'elemento RPG. Andiamo con ordine, non vi preoccupate, così meno evitiamo di creare confusione. Partiamo dall'elemento esplorativo. Il protagonista, l'agente P3, potrà esplorare l'abitazione sia a piedi o con l'uso di veicoli, tra cui tra virgolette sarebbero le auto che troveremo in giro. Durà ovviamente con l'esplorazione potrà trovare laboratori segreti e anche, se caso vuole, affrontare le missioni secondarie, dove si potranno trovare armi e risorse per potenziare l'equipaggiamento. Ovviamente rischio e pericolo, giustamente nulla è facile, anche perché Elisa è disseminata di nemici e anche di dispositivi di sicurezza. Fate sempre attenzione. Partiamo dai potenziamenti. Come vi ho detto prima, possiamo trovare le armi nuove e anche i vari equipaggiamenti. Tali armi potranno essere potenziate nelle apposite macchine. Un po' come succedeva in Bioshock, ogni potenziamento che andremo a fare sull'arma modificherà la sua potenza e si bloccherà anche di diversi tipi di munizioni, ad esempio munizioni elettriche, munizioni di ghiaccio e munizioni infiammabili. Cosa molto utile potenziare le armi e anche le munizioni, perché i nemici del gioco saranno di vario tipo, tra mutanti, robot, eccetera. Ogni nemico ovviamente sarà debole a un determinato tipo di munizioni e anche di arma. Quindi dovremmo sempre avere un equipaggiamento migliore e al momento giusto, perché se noi ci troviamo davanti i nemici robotici, ad esempio, potremmo utilizzare le munizioni elettriche. Se troviamo dei mutanti, possiamo utilizzare le armi di ghiaccio o se no le munizioni infiammabili. Insomma, dovremmo stare attenti, anche perché il gameplay, specialmente contro i boss, risulta essere bello impegnativo e anche divertente, ma allo stesso tempo anche tattico. Quindi dobbiamo combinare bene il tutto. Sempre nel combattimento, e a proposito di combinazione con le munizioni e con le armi, c'è anche le abilità usate da un guanto speciale. Come Bioshock, il guanto ovviamente può scatenare di diversi tipi di attacchi. Quello di ghiaccio, quello elettrico, può anche scatenare la telecinesi, in grado di sollevare i nari nemici, che in questo caso il giocatore può spararli, oppure farli scagliare contro per terra e in quel momento possiamo anche decidere di colpirli con un attacco devastante corpo a corpo. O se no, semplicemente possiamo ghiacciarli e se caso la situazione è critica, possiamo anche scappare. Dipende dalla situazione. L'importante è che vengono usate nel modo giusto, al momento giusto e combinati insieme per risolvere un po', diciamo, la situazione pericolosa, di pericolo, tra virgolette. Ogni tanto avremo a che fare anche con degli enigmi ambientali abbastanza semplici e in quel caso possiamo anche utilizzare alcune volte le abilità che avremo, diciamo, in dotazione, tipo il ghiaccio, la telecinesi per spostare un oggetto e via dicendo. Cioè non servono solo per il combattimento. Un'altra caratteristica sono anche i finali. Il gioco prevede finali diversi in base alle nostre scelte che andremo, diciamo, a scegliere durante le nostre fasi dell'avventura. Quindi ogni scelta ovviamente dopo porterà a un finale completamente diverso, un po' come accadeva appunto in Bioshock. Per quanto riguarda i combattimenti, come vi ho detto prima, sono violenti e frenetici e infatti i nemici possono essere anche ridotti in brandelli. In base a dove li colpiamo superano dei nagni realistici. Insomma, dal fronte di gameplay, devo dire la verità, mi sono trovato un gameplay solido, divertente e che mischia perfettamente i vari elementi. Adesso c'è solo una domanda ovviamente che bisogna farsi. Consiglio o no a Tom Hark? Ci vediamo tra poco nella sintesi per sapere se sì oppure no. Eccoci qua con la parte della sintesi di Atomic Heart. Quando è stato annunciato ai primi tipi da Manfish, il titolo del team russo, molti l'avevano, diciamo, dato come un titolo che magari non veniva proprio del tutto alla luce. Tanti pensavano anche una truffa, tanti invece pensavano che questo gioco non esisteva. Poi Manu Manfish ha pubblicato sempre più trili di gameplay fino a una data di uscita vero ufficiale e gli hanno presentato dei veri e propri gameplay, veri e propri del gioco. E lì ovviamente questo gioco è venuto fuori quello che è realtà pura. Certo, Atomic Heart è predisputo dai giochi più famosi che abbiamo citato prima, Doom, Bioshock, Far Cry, ma lo fa in modo saggio, mischiando perfettamente fasi esplorative, fasi di combattimento sia con le aree da fuoco che con quelle di, diciamo, contundenti e anche con gli elementi RPG per potenziare il proprio arsenale, anche perché avremo a che fare con vari tipi di nemici dai robot ai mutati, eccetera, eccetera. E poi anche il comporto tecnico. Signore, il comporto tecnico, Manfish, per essere un team emergente, ha saputo realizzare un gioco fluido, stabile e per di più anche con un leve design che offre delle abitazioni meramente create bene, progettate bene, che involgono l'esplorazione. Certo, non è proprio perfetto perché ha alcuni piccoli bug grafici, ma nulla che va a intascare l'esperienza complessiva del gioco. E poi una trama, tutto sommato, abbastanza interessante che ovviamente, da quello che ha detto Manfish, potrebbero esserci anche dei seguiti, un futuro Atomic Earth 2 e un futuro Atomic Earth 3. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che Atomic Earth ha un enorme potenziale, è un bel prodotto, confezionato bene, divertente e anche impegnativo. E potrebbe venire fuori anche, diciamo, un seguito magari migliore del primo. Questo per il momento, come titolo di esaudo di Manfish, è riuscito nella sua impresa, essere un prodotto valido. Io ve lo consiglio, se caso vi è piaciuto i giochi che abbiamo citato prima, sicuramente non vi deluderà Atomic Earth. Ne vale sicuramente il prezzo, dovrebbe far parte della vostra collezione. Bene, questa è la fine della recensione di Atomic Earth. Spero che vi sia piaciuto anche voi, se caso ci state giocando o volete comprarlo, fatemi sapere sotto nei commenti una vostra opinione e noi ci vediamo per le prossime recensioni, video attreprime, eccetera eccetera. Un saluto da un nuovo misterioso, da Lady 2, da vostro amico Bombe e noi ci vediamo alla prossima. Ah, il link in descrizione trovate come sempre tutte le info per quanto riguarda la redazione. Ciao, bye bye!